Sgominata la banda della rapina in banca a Montesarchio, i due responsabili dell'assalto avvenuto lo scorso 25 settembre sono stati arrestati dagli agenti del commissariato di polizia di Giuliano. I due Mario Pianese, 41 anni, e Francesco Pennacchio, 25, residenti a Giuliano, sono stati rintracciati e fermati al termine di una complessa indagine che si avvalsa delle immagini registrate dal sistema di sicurezza dell'Istituto di Credito e delle intercettazioni telefoniche. I due armati di Taglierino avevano fatto irruzione in banca riuscendo a sottrarre 22.000 euro e alcune migliaia di dollari statunitensi. Grazie alle intercettazioni telefoniche i poliziotti sono riusciti ad impedire che si allontanassero dall'Italia facendo perdere in questo modo le loro tracce. I banditi erano infatti diretti in Germania, a Dusseldorf, e sarebbero dovuti partire l'altra mattina. Gli agenti però li hanno bloccati giusto in tempo. Le indagini del commissariato di polizia di Giuliano sono il prosieguo di quelle che riguardano analoghi delitti commessi nel Giulianese e nel Casertano da una banda di giovanissimi rapinatori, poi assicurati alla giustizia e attualmente detenuti in attesa di giudizio. La polizia da tempo è sulle tracce di banditi senza scrupoli che armati terrorizzano non solo Giuliano ma diverse città della provincia e d'Italia.